Vuoi vivere l'emozione di fare colazione con gli elefanti selvatici in Thailandia? Ti mostro un'esperienza che ti lascerà senza parole. Siamo nel bel mezzo della giungla e ci siamo svegliati questa mattina con dei rumori fuori dalla camera. E guardate chi c'era da aspettarci. Un elefante in attesa di coccole. Ci hanno portato delle banane e abbiamo fatto colazione insieme a loro. Siamo stati per ben due giorni a contatto con questi elefanti selvatici che vivono in totale libertà. Gli abbiamo dato da mangiare, li abbiamo lavati e abbiamo fatto delle passeggiate di fianco a loro nelle montagne della giungla thailandese. Un'esperienza unica, emozionante e che ti lascia senza parole. Ma sai quanto abbiamo pagato per passare la notte qui e dove ci troviamo? Beh, seguimi per la seconda parte del video dove ti svelerò il nome dell'hotel segreto e come puoi arrivarci. Ecco un breve incipit di quello che ti aspetta nei prossimi video. Ah, mi raccomando, lascia like.